Nel 2020 la Cigiele dell'Alto Adige si è battuta in prima linea per la sicurezza. Abbiamo scioperato con i lavoratori del tunnel del Brennero per rivendicare l'applicazione di tutte le misure utili a garantire la salute e la sicurezza degli operai impegnati nell'opera. Nel 2020 è stato un anno particolarmente difficile. Con la prima ondata abbiamo avuto un po' di difficoltà, però ci ha permesso di mettere in atto un protocollo del Covid-19 che in questo momento, nella seconda ondata, ci ha permesso di tenere il cantiere aperto del Brennero grazie al sindacato e all'azienda. Il protocollo Covid-19 ha funzionato abbastanza recentemente, avendo la possibilità di rimanere aperti e continuare a lavorare. Questo è stato una grossa sfida e una vincita per quello che riguarda il cantiere del Brennero. Siamo stati a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori più vulnerabili, come quelle e quelli che si occupano delle pulizie negli ospedali, nelle case di riposo. Abbiamo condiviso la loro fatica e le incertezze di chi ha dovuto continuare a lavorare, anche in un periodo così difficile, a fronte di contratti non rinnovati. E con loro abbiamo manifestato più volte per rendere visibile chi di solito è invisibile. Allora io faccio le pulizie in questo momento al Covid. Prima di entrare mi metto un'altra divisa, perché si suda troppo, si suda. Mi metto la divisa, poi mi metto i calciari, la tuta mi metto, poi taglio la tuta, taglio per entrare con le mani, un paio di guanti che diventa la mia seconda pelle, quelli diventano, poi la cuffia mi metto, la maschera quella grossa. Io ho iniziato il 9 di marzo al Covid, ma è capitato per caso che ero lì e io non ho più smesso. Al 30 di maggio ho chiuso la geratria 2, abbiamo chiuso, mi ha strappato via i fogli e tutto, l'ho ripristinata tutta e a settembre l'ho riaperta. Sicuramente nel 2020 il filo rosso del nostro impegno è stata l'attività unitaria. Abbiamo chiuso importanti accordi sulla sicurezza, sulla cassa integrazione in deroga e regolata dal fondo di solidarietà territoriale. Abbiamo chiesto con forza e ottenuto di essere interlocutori per il governo locale. Abbiamo portato a casa anche importanti risultati, sussidi aggiuntivi per chi non era coperto da quelli statali, sostegni per le famiglie di chi era senza lavoro in cassa integrazione e interventi sugli affitti e sulla sicurezza sanitaria. Ci siamo anche impegnati nello sforzo collettivo per lo screening di massa, che in Alto Adige ha coinvolto 350.000 persone. Un filo rosso è stato anche il lavoro di Rete, Rete con più di 30 associazioni per ottenere finalmente, dopo un anno di impegno comune, il Centro di tutela contro le discriminazioni, bloccato da 11 anni. In quest'ottica abbiamo anche aperto, a livello confederale nella Camera del Lavoro di Bolzano, lo sportello Nuovi Diritti. Rete tra il sindacato dei pensionati, Hauser e con gli omologhi delle altre organizzazioni sindacali, per ottenere una legge sull'invecchiamento attivo che ormai è addirittura di arrivo. Tanti progetti sono nati grazie alle sinergie. Abbiamo fatto rete con i giovani dell'Università, Spazio Autogestito 77 e Nidil, per il progetto Ciclofficina, che ci aprirà un'ulteriore finestra sul mondo dei rider. Abbiamo aperto una ciclofficina popolare dal nome Pedale Radicale. Questo posto vuole tutelare una categoria di lavoratori del delivery food, i rider. Il primo obiettivo che ci siamo posti è quello che segue l'anima che caratterizza una ciclofficina, che non è un negozio di bici, per cui noi prima di tutto insegniamo al rider e a chi viene a trovarci a lavorare sulla propria bici in sicurezza, quindi ci occupiamo di supervisionare l'utilizzo corretto degli attrezzi, le procedure ed eventualmente anche i pezzi di ricambio che abbiamo qua disponibili, con l'obiettivo di rendere capace la persona riparare la propria bicicletta, rendendosi conto che non è nulla di difficile. Per il 2021 chiediamo con forza di essere coinvolti adesso, come sindacati confederali, non solo nei momenti di crisi, ma anche sulla progettazione del futuro per uno sviluppo economico sostenibile del nostro territorio. Quindi le politiche che sono necessarie anche per questa terra e non solo per questa terra sono delle politiche di programmazione degli investimenti. Intanto stiamo chiudendo il 2020, un anno intenso e particolare, ma noi della CGL e l'AGB sappiamo vivere il nostro impegno solo così, con passione, mit Leidenschaft. Grazie a tutti!